Buon pranzo a tutti e buon 16 agosto. Ciao Marta, puoi salutare? Ciao a tutti. Allora noi oggi pane di segale, Marta invece focaccia di segale, guardate che piazzi focaccia. Ma vuoi focaccia? Guarda qua, guarda che spettacolo. Ovviamente l'ho comprata in un forno e non l'ho fatta io. Poi tonne e pomodori fresco fresco, cetriolo ghiacciato, l'abbiamo messo nel congelatore, ne avevamo uno solo, ho detto ma Fabio mettiamo nel congelatore. Sale, olio, non rigano, voglio il cetriolo fatto così, è lo spettacolo. Poi ciambotta di verdure, noi qua la chiamiamo ciambotta, mamma mia che freddo, è freddissimo il cetriolo. La chiamiamo ciambotta, è un mix di verdure, peperoni, zucchini, melanzane, olive, cipolla, proprio tutto insieme fatto al forno. Che mi ha fatto? Gentleman mia suocera, buonissima, grazie. Detto questo, Marta, ti apposta, ma ci sei? Ci sei? Detto questo, voi tu vi auguriamo buon pranzo. Marta, te fai tonno, pomodori e focaccia. Prego, prego. Ok, pure io mi sono preso un pezzettino di focaccia. Buon appetito, arrivederci.